Bella! Tutti belli e brutti, io sono Umberto Palumbo e siamo qui per fare il video della top 10 dei migliori centrocampisti della serie A Girone d'Andata 2019-2020. Bene, lasciate molti mi piace su questo video e credo che possiamo iniziare subito. Decimo posto, Tonali del Brescia. Tonali, un giovane veramente promettentissimo, le sue qualità le conosciamo, credo che le conosciate tutti, bravissimo come mediano perché è capace di intendere il gioco da tutte le parti. In pratica può fare sia il mediano, può fare la mezzata, può fare anche il trequartista volendo perché è un tutto campista totale per la grandissima tecnica, la voglia, il grande fisico e quindi la grande tenuta fisica. Quindi è un mix di giocatori di prospetto completo. Spero tanto per lui perché si sta parlando anche di un interessamento della Roma, anche se è diciamo promesso sposo all'Inter da diverso tempo, ma nel caso in cui arrivasse Vidal o Eriksen non credo che poi Tonali vada all'Inter. Però alla Roma serve un mediano, quindi io sarei contento di vedere Tonali anche perché ce l'ho al Fanta e quindi è un giocatore molto, veramente giovane e un prospetto aggesordito il nazionale, già fa bene il nazionale, quindi gli va dato merito. Decimo posto. Passiamo alla nona posizione e qui troviamo una grandissima sorpresa, Gastor Rodriguez della Sampdoria. Uno dei pochi volti veramente incredibili della Sampdoria perché grazie alle sue giocate, grazie al fatto che gioca sempre titolare, che comunque Ranieri anche adattandolo a sinistro, cioè come esterno sinistro destro, lo preferisca ad altri che sono esterni di ruolo. Quando lui è stato trequartista e Ranieri l'ha preferito sempre quando ha giocato con due punte, l'ha preferito sempre a Rigoni che è stato comprato, mi ricordo, dalla Sampdoria e veniva presentato come un top player, il vero top player del mercato della Sampdoria. In questo momento fa il semplice panchinaro, mentre il solare lo fa Gastor Rodriguez, che quest'anno è definitivamente diventato il giocatore cardine della Sampdoria, per la grandissima tecnica sicuramente, ma anche per il fatto che da quel blitz in più, quella cosa che fa girare la squadra, praticamente senza il motorino della squadra, senza Gaston, la Sampdoria non gira. E per questo il nonno posto se lo merita, anche perché ha garantito, almeno per ora, la salvezza della Sampdoria. Bene, passiamo all'ottavo posto e qui ho voluto inserire Nandez del Cagliari. Ce l'ho a Fanta, ok. Nandez del Cagliari che veniva accolto come comunque un giocatore buono, ma nulla di più, semplicemente perché nel mercato del Cagliari sono venuti altri giocatori che già conoscevamo, tipo Naingolana, tipo Rog, Simeone, ma Nandez è passato un po' in sordina. Ma io, che ho preso al Fanta tra l'altro, lo conoscevo già dai tempi del Boca, perché avevo fatto una carriera ma lasciavo perdere, insomma già lo conoscevo. E Nandez, semplicemente, con la sua grande potenza, la sua altissima velocità, è un polmone aggiunto. Può giocare anche esterno e non gli vedresti mai l'errolo d'esterno, ma Rann addirittura l'ha fatto anche fare l'esterno del 3-4-3. Perché? Perché anche per un fatto che non ci sono terzini destri e quindi per far giocare, insomma, per mettere in questo modo l'ha pure adattato. E gioca sempre bene, Nandez come ottavo ci sta benissimo perché comunque non segna tanto ma è una cosa in più e garantisce anche molto a livello difensivo. Un giocatore completo. Passiamo al... e comunque sta veramente giocando bene, non per questo il Cagliari praticamente sta al sesto posto. Passiamo alla settima posizione e qui troviamo Barella dell'Inter. Barella che è del centrocampo dell'Inter che quest'anno non è piaciuto a nessuno, anche se comunque la difesa è sempre la difesa, l'attacco è l'attacco. La cosa che non gira è sicuramente il centrocampo dell'Inter. Perché? Perché gli manca quel giocatore top player che poteva essere Barella. Io non l'ho messo più in alto per il via dell'infortunio, poteva essere Sensi ma praticamente non ha giocato le prime dieci giornate e poi scampo di partita non incidendo. Barella invece se lo merita, si merita di stare qui perché comunque ha giocato molto e pian piano macinando è tornato quello del Cagliari fino all'infortunio. Adesso è ancora in infermeria ma tornerà Barella quindi non l'ho potuto mettere più in alto del settimo posto perché comunque il centrocampo dell'Inter non è il migliore della Serie A. Però comunque rende abbastanza e comunque è una delle promesse italiane più potenti che ci sono in questo momento. Perché comunque ha la sua giovane età già il titolare, titolarissimo in Italia e con l'Italia viene sempre preferito ad altri formando con Verratti e Giorginio praticamente il centrocampo titolare. Quindi Barella un applauso e anche un augurio per ritornare più forte di prima. Sesto posto per Giordano Beretù della Roma. Beretù. Beretù tutu, Beretù tutu. Allora, diciamo che quell'errore che avete visto la settimana scorsa contro la Juve non è stato a mio parere proprio colpa su. Cioè nel senso che, allora, è stato colpa su assolutamente ma il fatto che giochi tutte le partite prima o poi ti stanchi, cioè non ce la fai più. E soprattutto nelle prime dieci, perché gioca tutte, nelle prime dieci era lui l'uomo perfetto della Roma, poi da lì è iniziato a perdere i colpi perché si stanca. Non ho messo più in alto appunto per questo, anche perché gli altri giocatori sono allucinanti. Ma il sesto posto se lo merita perché Beretù è un giocatore fondamentale per il gioco della Roma perché garantisce, e poi non per caso Fonseca lo mette tutte le volte, garantisce tanti passaggi, fa il gioco tutto lui, tutto da solo. Fa il passaggio dietro e poi anche un centrocampista che sa anche attaccare. Non ha segnato solo un gol in questo momento, sul rigore, ma non è questo il suo obiettivo. Beretù è anche un cagnaccio in mezzo al campo, recupera palloni. Diciamo mi ricorda molto lo Strotman, il primo Strotman della Roma. Quindi Beretù sono contentissimo. Adesso questo ho soli 13 milioni di euro. E quindi un applauso a Giordano. Passiamo alla quinta posizione, qui troviamo Lorenzo Pellegrini, sempre della Roma. Lorenzo Pellegrini. Sinceramente questo potrebbe essere il suo anno, questo potrebbe essere il suo anno. L'anno scorso a mio parere non era, non era stato il suo anno, cioè perché a parte le partite sono state molte rispetto a due anni fa quando giocava poco, poco e giocava abbastanza bene, però non tantissimo, non gioco tanto. L'anno scorso gioco tanto, ma per via della scarsezza di Inzonzi e tutti i compagni di Repar, ma non veniva schierato trequartista, ma mezzala. Perché Di Francesco prediligeva il 4-3-3. Sappiamo che però anche quest'anno dopo un mazzo, che si è fatto un mazzo così, da trequartista, è il top player della squadra perché riesce a fare fase offensiva e fase difensiva. Questa fase offensiva praticamente crea tutte le azioni, crea tutte le azioni. Veretù parte dal basso, anche con l'ausilio dei difensori e del portiere, fino ad arrivare a Pellegrini che smista per le ali o per la punta. E fa lo smistatore, cioè fa veramente quello che dovrebbe fare qualunque trequartista. Quindi un applauso a Pellegrini. Non l'ho messo in quinto posto per via dell'infortunio, perché ha giocato relativamente di meno di altri, quindi non l'ho potuto mettere più in alto. Bene, passiamo alla quarta posizione. Qui troviamo Milinkovic-Savic della Lazio. La ripresa di Milinkovic-Savic. Allora, tutta la Lazio esplosa, quindi era il minimo, metterlo il quarto posto, era il minimo. Gli altri sono troppo superiori, ma comunque il quarto posto se lo merita, perché Milinkovic-Savic con una netta ripresa in avanti, con un netto miglioramento, perché è cresciuto, non solo dal punto di vista tecnico, perché sappiamo le qualità, tutti sanno le qualità di Milinkovic-Savic, ma anche dal punto di vista mentale, perché è veramente diventato un giocatore simbolo di questa Lazio, si è preso la responsabilità. E oltre a fare gol, anche tecnicamente, è molto più parte integrante del gioco della Lazio, quindi semplicemente il quarto posto era il minimo. Terzo posto per Nainggolan. Nainggolan, che tutti lo davano per spacciato, lo davano per finito, ormai finito dopo l'esperienza con l'Inter, e dopo l'esperienza fallimentare con l'Inter, dove Antonio Conte l'ha sfanculato praticamente, Nainggolan si è ripreso più forte andando al Cagliari e andando tanto così dall'Inter, praticamente secondo sesto posto, comunque siamo lì, con un Cagliari sorprendente, un Cagliari pazzesco con un centrocampo veramente incredibile, già due di questi nomi sono nella mia top 10, ma anche Rogge non sta facendo una brutta stagione, anche Ionita, anche Castro, ci sono tantissimi centrocampisti. E inoltre, poi parleremo anche dell'attacco, ma comunque Nainggolan in poche parole segna tanto, perché comunque è stato sempre un centrocampista offensivo, ma ha preso anche le redini del Cagliari, cioè l'ha trascinato lì, e questo gli vanno dati i meriti, perché è un giocatore fondamentale, un giocatore fortissimo, formidabile, le qualità di Nainggolan e poi, sì, le serate al pub Briacando ci sono e ci saranno sempre, ma è stato responsabilizzato per la prima volta, dando tutto a Nainggolan. Se alla Roma comunque c'era Totti, c'era De Rossi, all'Inter c'era la figura di Mauro Riccardi, che poi è stata sostituita da Andanovic, ma c'erano altri difensori che giocavano di più nell'Inter, per esempio, che ne so, Skriniar, che comunque già un anno aveva giocato, se non mi sbaglio, o comunque, che ne so, un Vesino, che comunque giocava di più, era meno forte sicuramente, un Perisic, invece qui è stato responsabilizzato nel nuovo Cagliari, lui è il leader del nuovo Cagliari, da quinto posto. Bene, seconda posizione, Miralem Pjanic, della Juventus. Mirò del culo, vabbò, mirò del culo da quando è stato venduto, però ok, Miralem, 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 allora, l'esperienza della Juve, fino adesso, non è stata la migliore, non è stata la migliore, anzi, è stata probabilmente l'esperienza peggiore di Pjanic nella sua carriera. Una sola stagione buona, due anni fa, l'anno scorso, così e così, quest'anno si è ripreso alla grandissima, è diventato il fulcro centrale della Juve, tutto fa Pjanic al centrocampo, sì, Matuidi l'avrei anche voluto inserire in classifica, ma semplicemente che è diventato, ha fatto un esplamo a Matuidi incredibile, e poi il centrocampista alternato, che può essere Rabiot, può essere Ramsey, che può essere Emre Can, quindi, o Bentancur. Pjanic, però, è sempre rimasto lì, Pjanic non si tocca, Pjanic non si tocca, perché fa tutto lui, è incredibile come smista il gioco, ma le qualità le conosciamo, ma anche questa ripresa psicologica che ha avuto, diventando anche lui il leader della Juventus a centrocampo, diventando il fulcro centrale del gioco della Juve, gli va fatto un applauso, perché riprendersi dopo questa stagione altalenante, era difficile. Ma soprattutto, gli va fatto un applauso, per la prima posizione, Luis Alberto, Luis Alberto, Luis Alberto, e mi rode il culo, perfetto. Guardate, mangio un po', perché, perché, perché mangio un po'? Perché semplicemente, ragazzi, che gli puoi dire a Luis Alberto? Certo, cioè, l'anno, due anni fa, fece una stagione della Madonna, il gioco trequartista, praticamente, il gioco trequartista, quindi era più facile, voi direste, no? E invece no. Giocare trequartista è molto più difficile, perché comunque stai più vicino alla porta, ma per quello che fa Luis Alberto è più difficile, perché questo ha dimostrato come il suo ruolo sia la mezzala. Perché? Perché fa assist a profusione, perché regala gioco a Immobile, e Correa ha fatto un record di assist assurdo, ha superato i dieci assist in mezzo anno, per farvi capire, Luis Alberto, quanto sia forte, e quanto abbia la visione del gioco, e poi come si è esploso, perché se due anni fa feceva una stagione della Madonna, l'anno scorso è una stagione di merda, stanno, se è ripreso, ha fatto l'exploat definitivo, stanno il miglior centrocampista della Serie A. Bene, l'ho detto, l'ho sparato, perfetto. Bene, questo video finisce qui, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale, e commentate qui sotto con la vostra classifica, nei commenti, e seguitemi su Instagram, e il trattino passo motociclista, bella!